La regione siciliana ha concluso un accordo con i sindacati degli agenti della Polizia Forestale siciliana, che stabilisce che ogni agente riceverà un aumento di stipendio di circa 80 euro. I sindacati hanno detto che si è trattato di uno storico risultato, visto che attendevano questo rinnovo contrattuale da ben 16 anni. I forestali siciliani sono 22.000, cioè più di tutti gli agenti della Polizia Forestale che c'erano nel resto del paese prima dello scioglimento del corpo, che dall'anno passato si è fuso con quello dei carabinieri. Il loro alto numero è da tempo considerato un simbolo però del clientelismo dell'isola, dove i politici utilizzano spesso il denaro pubblico per compiere iniziative con cui raccogliere consenso elettorale. Ed in effetti la polemica non ha tardato ad arrivare, visto che in molti stanno criticando la decisione di Crocetta, sottolineando come sia stata presa da appena due mesi dalle elezioni regionali, che si svolgerà nel prossimo 5 di novembre. Il costo dell'operazione è ancora da quantificare, dicono dall'amministrazione, mentre i sindacati esultano. Ed esulta anche l'assessore regionale all'agricoltura, Antonello Cracolici, che commenta Esprimo soddisfazioni per la presa d'atto che la Giunta ha approvato su mia proposta, in merito all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali sul contratto di lavoro integrativo dei forestali. L'ultimo contratto integrativo era stato assunto nel 2001. Dopo oltre 16 anni si rimette dunque ordine e si riconoscono diritti ad un settore spesso bistrattato, ma che costituisce un presidio indispensabile per la tutela e la manutenzione del territorio e del demanio forestale della nostra regione. Un aumento nello stipendio di 80 euro mensili che dovrebbe alleggerire in parte, o per meglio dire, tirare un piccolo sospiro di sollievo a tante famiglie che vivono di questo lavoro. Il rinnovo, siglato da Flai CGL, Fai Cisle e Willa Will siciliane, con il Dipartimento Sviluppo Rurale del Territorio e il Comando Corpo Forestale, prevede anche misure su infortuni, malattie e tutele sulle donne lavoratrici, diritti importanti per tutti quei lavoratori che dopo tanti anni attendevano il rispetto della propria dignità lavorativa, singola e collettiva.